Ritorniamo a parlare di auto se non di lusso, se non supercara, comunque di auto sportive e facciamo un confronto ancora una volta tra Dubai e Italia, ancora con un brand italiano. Parliamo di Maserati. Vediamo quanto costa comprare una Maserati in Italia, quanto costa comprare la stessa auto a Dubai. Dopo le Ferrari e le Lamborghini che abbiamo trattato, stavolta parliamo di Maserati. Se però siete interessati ad altri brand in particolare, su cui possiamo operare questa stessa tipologia di confronto, mi raccomando scrivetelo nei commenti e visto che ci siete, magari iscrivetevi anche al canale e ricordate di seguirmi anche in Telegram e in Instagram per avere dei contenuti, diciamo così, un po' più immediati e per consolidare la nostra community dal momento che su Instagram riusciamo a rispondere anche ai direct maserati. Ovviamente per fare questo confronto non ho preso tutto il listino della Maserati, mi sono riferito solo su alcuni modelli di riferimento. In particolare prendiamo un paio di allestimenti per la Maserati quattroporte, poi vedremo la Grecale, il nuovo SUV della linea Maserati e poi vedremo anche un'auto usata. Ora, per quanto riguarda la quattroporte, vediamo un allestimento V6 Modena 3000 di cilindrata, vediamo il costo in Italia e a Dubai. Allora, partiamo. Il costo da listino quattrorote di una 3000 V6 Modena 133.760 euro che sono pari a 485.000 dirham, mentre il prezzo della Maserati quattroporte in V6 Modena negli milatiari avviede 539.000 dirham, quindi molto più economica in Italia. stiamo parlando di una differenza di 55.000 dirham, circa 15.000 euro di differenza, potrebbe convenire prenderla in Italia. Mentre se andiamo su un allestimento 38 di cilindrata V8 trofeo, parliamo di 749.000 dirham negli milati arabi, mentre in Italia la troviamo a 175.000 euro, pari a 635.000 dirham. Quindi, ancora una volta, l'Italia molto più economica per l'acquisto di una Maserati. Anche perché stiamo parlando di oltre 140.000 dirham, quindi siamo quasi a 30.000 euro di differenza per il modello di punta. Stiamo parlando comunque poi di un allestimento con gli optional di base, perché poi ovviamente lì variano i costi. Mentre passiamo alla grecale. Maserati grecale, che è il nuovo sub lanciato dalla Maserati, 2.0 T Modena 2023. I costi partono dai 320.000 dirham V6 Modena per l'allestimento di base, mentre l'allestimento di base per una grecale in Italia parte da 74.470. Il costo è leggermente più basso in Italia. Quindi se prendiamo proprio l'entry level, diciamo che in Italia 74.770 corrispondono a 270.000 dirham rispetto ai 299.000 dirham dell'allestimento di base, della grecale, negli Emirati Arabi. Quindi c'è una leggera differenza di prezzo, stavolta a sfavore degli Emirati Arabi. The one that is coming here between January and February is the Grecale Modena, which is the one that you're looking for. Grecale Modena will be 369.000. Okay. The one that we are actually bringing here has quite a good option. I saw that the basic is starting from 3.9. Ora però, prima di fare delle considerazioni sulla convenienza o meno di acquistare delle auto in un paese e riportarla dall'altra parte, vediamo invece anche un esempio di riferimento sul mercato dell'usato. Ricerchiamo auto usate, Maserati usate Dubai. Allora, la prima che mi viene in evidenza è una Maserati Ghibli del 2015 con 120.000 km, 80.000 dirham, sono 22.000 euro. La stessa tipologia di auto, quindi una Maserati Ghibli, giugno 2015, 128.000 km, quindi vedete comparabile, 32.500 euro. Quindi l'usato costa molto di più in Italia. Questo per quale motivo? Perché qui ovviamente il parco auto è molto più fresco e c'è una maggiore disponibilità economica, quindi è più facile che uno si stanchi dell'auto e passa al modello successivo e tende a vendere abbastanza a un costo basso per il modello precedente che perde di valore, perché qui c'è molta chauffe, quindi andare in giro con una Maserati del 2015 come dire, non è figo, mentre in Italia hai comunque una Maserati, quindi comunque fai la tua figura. È un po' come dire, se vai in giro con una California T in Italia, hai pur sempre una Ferrari. Qui non dico che controproducente che fai più bella figura ad andare in giro con la Jeep, ma avere una Ferrari California, ecco, diciamo, non sempre rischi di avere l'effetto wow di dire sono in giro con una Ferrari. Quindi o lo fai per te, ma sicuramente non lo fai per fare show off. Ecco, questo è il motivo per cui sul mercato dell'uso auto più facilmente si risparmia. Però, al di là di questo, conviene poi comprare l'auto in uno dei due paesi e portarla dall'altra parte? Tendenzialmente no, per due motivi. Il primo è che ci sono delle caratteristiche tecniche diverse tra specifiche europee e specifiche GSSI. in particolare le specifiche GSSI prevedono degli impianti di condizionamento che sono maggiorati, i filtri antisabbia, quindi comunque l'auto importata dall'Europa qui può soffrire di più durante il periodo caldo, può avere maggiori problemi per i filtri antisabbia, quindi o va ricondizionata e quindi quello che io risparmio comunque lo devo, come dire, lo vado a perdere perché devo fare questo ricondizionamento e poi ci sono anche i costi di trasporto. Stessa cosa, quando invece vado a importare un'auto dagli Emirati Arabi all'Italia perché la riesco a pagare molto meno agli Emirati Arabi, dovete considerare che al di là del costo del trasporto c'è poi il costo dell'IVA, quindi se io compro un'auto e la porto in Italia devo pagare l'IVA, devo pagare i dazi ideogonali e siamo all'incirca sul 30%, quindi quello che ho risparmiato rischio comunque di perderlo. Sul mercato dell'usato probabilmente c'è un maggiore margine perché riesco veramente, rischio di fare veramente un affare qui, però dovete considerare, facendo il caso di questa Maserati Ghibli che ho trovato, che se io compro una Ghibli qui ha 22.000 euro, quindi la pago molto bene, magari mi faccio anche fare uno sconto, 20.000 euro mi porto a casa una Ghibli. Nel momento in cui arriva in Italia non solo ho pagato le spese di trasporto che in questo periodo storico non sono banali, poi la devo reimmatricolare e auguriamoci che sia tutto originale e che quindi l'auto passi il collaudo e me la facciano reimmatricolare, ma poi dovrò pagare le spese doganali e l'IVA sul valore periziale dell'auto, cioè sul valore che un perito dell'agenzia delle dogane stabilisce su quell'auto e che si riferisce al valore europeo, quindi io questo 30% non lo vado a pagare sui 20.000 euro di acquisto, ma lo vado a pagare su quello che è il valore di mercato dell'auto in Italia, quindi lo andrò a pagare sui 32.500 euro, quindi sono altri 10.000 euro circa che devo andare a mettere. Probabilmente, come abbiamo già visto in altri video, è molto meglio trovare un buon affare ma che sia magari già in comunità europea dove magari io posso anche guidare l'auto fino all'Italia, ma non fare tutto questo con gli Emirati Arabi, dove tra l'altro ci sono anche delle specifiche tecniche leggermente diverse. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando scrivetemi nei commenti se volete che io parli di altri brand. Ma salama!